Ben ritrovati da Pasqualino Rettura, rieccoci per i giornali in tv. Gran parte dei titoli principali di tutti i quotidiani sono dedicati intanto alla scoperta del corpo purtroppo senza vita della giovane Giulia e poi all'arresto che c'è stato all'estero in Germania dell'ex fidanzato. Poi ho chiaramente anche un riferimento a quello che è successo pure in Calabria per modalità diverse, ma comunque è stata uccisa una donna anche in Calabria a colpi di fucile, una donna medico in servizio alla guardia medica di Santa Cristina da Spromonte. Queste due notizie di cronaca campeggiano sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo ad andare a vedere, per iniziare come sempre con Gazzetta del Sud online, per iniziare con le notizie di respiro regionale, poi con l'amettino.it, il quotidiano del Sud e poi per concludere come dicevamo con le prime pagine dei principali titoli delle prime pagine del quotidiano nazionale, per concludere poi con lo sport. Intanto su Gazzetta del Sud web nella Ombola, prima notizia riguarda una notizia che arriva da Catanzaro dove c'è stato un incendio in un deposito edile appunto a Catanzaro, c'è stato l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Poi sempre a Catanzaro giornate fai, quindi parliamo del Fondo Mondiale Ambiente, giornate fai d'inverno, a Catanzaro apprendisti ciceroni guidano la visita nelle chiese della città, quindi mercoledì 22 novembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Gli alunni delle scuole elementari, medie e licei accompagneranno i visitatori a Monte Corvino, Santa Maria del Mezzogiorno, San Nicola, Sant'Omobono, Sant'Anna e Sant'Angelo. E andiamo a una notizia che arriva da Sersale dove per fortuna non è successa una tragedia, investono un cinghiale, poi scivolano in un canalone la disavventura di due automobilisti a Sersale. I malcapitati sono stati recuperati dai vigili del fuoco e affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli. Questo era sempre su Gazzetta del Sud. Online c'è anche questa notizia, la favola di Mari dal barcone al posto in squadra con il crotone. E ancora su Gazzetta del Sud, in Drangheta, i terreni di Rocca Bernardo erano loro, ritorsioni per chi si opponeva ai diktat. Questa è una notizia che arrivava dal crotonese, diciamo da Rocca Bernardo. E ancora per Gazzetta del Sud online proseguiamo con questa notizia che riguarda il Soriano Calcio, AGS Soriano 2010 è tornata a casa, cioè sul suo campo di calcio dopo due anni e mezzo di trasferte e ancora andiamo avanti, notizia completamente diversa. Caso Luberto chiuso a doppia mandate, illegale dell'ex procuratore, un magistrato specchiato. Quindi si fa il ritorno all'assoluzione del magistrato Luberto che è finito sotto processo e poi alla fine è stato definitivamente assolto. L'omicidio di Giulia Cecchettin, la riflessione su questo omicidio della vice sindaco di Catanzaro Giussi Iemma, serve una rivoluzione culturale, dice la vice sindaca di Catanzaro che è intervenuta sull'omicidio di Giulia Cecchettin. A proposito di omicidio parliamo di un altro grave fatto di sangue, un duplice delitto di squillace, le cosche puntavano giri falco, emergono ulteriori retroscena sull'omicidio dei coniugi Bruno nel 2013. Le giorni scorse è stato arrestato il presunto autore. Parliamo di politica, elezioni comunali a Vibbo nel 2024, il centro esiste in Pantanato, a rischio anche il tavolo regionale. Poi andiamo alla Mezzia, il bilancio consolidato 2022 approda in Consiglio Comunale, Mascaro alla prova dell'Aula, l'assiste è stata convocata sia in prima che in seconda convocazione. È stata convocata intanto per mercoledì alle 12.30 e in seconda convocazione il giorno successivo, giovedì 23 novembre alle 16.00 e quindi in agenda appunto all'ordine al giorno sono circa 30 punti riguardanti i debiti fuori bilancio e poi c'è anche il bilancio consolidato che è stato approvato a settembre dalla Giunta ed è attualmente al vaglio dei revisori dei conti, però il bilancio consolidato dopo essere stato approvato a settembre dalla Giunta doveva essere approvato entro il 30 settembre dal Consiglio Comunale, così non è stato e ora arriva con due mesi di ritardo al vaglio del Consiglio Comunale. È importante approvare il bilancio consolidato perché una volta approvato il bilancio consolidato al Comune si possono fare assunzioni perché senza bilancio consolidato non si può assumere personale. Su questo bilancio consolidato pesano però 4 pareri contrari degli ex revisori dei conti, dopo andremo ad approfondire questa notizia. Catanzaro si parla di elezioni provinciali, ci sono riposizionamenti in vista delle elezioni provinciali, forse politica e l'opera per la formazione delle liste, forse Italia e Fratelli d'Italia potrebbero perdere un seggio, la Lega è in crescita e poi c'è un interrogativo, noi moderati, la sorpresa? Scrive sempre Gazzetta del Sud, poi Rocca Bernarda ancora nel Crotonese, al Comune il boss faceva il bello e il cattivo tempo, i contributi dei pentiti all'inchiesta sul clan bagnato venuto alla luce venerdì scorso. Catanzaro, vertenza dei medici convenzionati e realtà l'intesa con azienda zero. Ancora su Gazzetta del Sud, Vibbo, il parco archeologico rimane solo una fumosa cartolina. Ancora su Gazzetta del Sud, Catanzaro Servizi si lavora la svolta ma è una corsa a ostacoli. Ancora un altro incendio, a Crucoli, un grosso incendio alla periferia della frazione Torretta di Crucoli, lambisce case e strade, scrive appunto Gazzetta del Sud online, con cui come sempre abbiamo iniziato il nostro appuntamento con i giornali in tv. Proseguiamo con il lamettino.it, equip 118 di soli infermieri, salva a Falerna una donna con pacemaker non funzionante. Ed ecco qui il grave omicidio di una donna a Santa Cristina da Spomonte, una dottoressa uccisa, potrebbe essere risentito il marito. Poi anche qui impattano contro cinghiale, scivolano in un canalone dopo essere scesi dall'auto a Sersale, sono stati recuperati dai vigili del fuoco, due coniugi. E ancora sul lamettino una droga nascosta in terreno a mezzo metro di profondità, c'è stato un arresto a Rosarno, indagine sulla qualità della vita, Bolzano in testa, ultima crotone. Sono delle ricerche in corso per un fungaiolo che si è disperso a Cerchiara di Calabria. Poi andiamo a una notizia diversa, completamente diversa. Occhiuto a Etna 23 di Forza Italia a Taormina dobbiamo avere ambizione di tornare partito maggioritario di centrodestra. Poi la mezza diventa realtà la cittadella della carità, ne avevamo parlato già nei giorni scorsi. Il 23 novembre ci sarà l'inaugurazione di questa cittadella della carità al complesso interparrocchiale San Benedetto. Alla mezza iniziativa per abbattere le liste di attesa all'ospedale nel weekend del lunedì. Il plauso dell'osservatorio sociale San Nicola. E ancora sul lamettino.it Salvatore De Biase, la città dia valore al professore Domenico Enrico Massimo, tra i migliori scienziati del mondo. L'associazione alla mezza libera, la base dei Canadair non si tocca. Poi alla mezza, progetto Itaga, incontri formativi su salute mentale nelle scuole superiori. A Curinga ha rinnovato il Consiglio dell'Azione Cattolica parrocchiare per il triennio 2023-2026. E ancora premio internazionale città di Gioacchino da Fiore, il 2 dicembre, Maria Grazia Cucinotta, madrina dell'evento. E ancora la mezza terme, evento sportivo, la corsa di Natale il 3 dicembre, martedì 3 dicembre. Martedì prossimo ci sarà la presentazione della corsa di Natale del 3 dicembre. Poi, quindi martedì prossimo 21 novembre, appunto ci sarà la presentazione della corsa di Natale che si svolgerà il 3 dicembre. Poi alla mezza terme, la scuola secondaria Pitagora aderisce all'iniziativa Non farti imballare. Poi sempre alla mezza terme, fine settimana di incontri e tesseramenti per la Lega. Poi alla mezza il ricordo di Costantino Fittante a due anni dalla scomparsa. Quindi due anni fa appunto è morto a Moriva all'età di 88 anni, Costantino Fittante, deputato, consigliere regionale, storico dirigente del PC e in passato sindaco di Santo Eufemia e il ricordo del movimento La Mezza Bene Comune. Salvini in Calabria per il battesimo MSC Celestino Maresca al porto di Gioia Tauro e anche per l'inaugurazione della nuova sede della Lega Reggio Calabria. Poi alla mezza terme c'è stato il primo appuntamento della sessione invernale dell'Old Gastro Jazz Festival con Tommaso Pugliese Trio e incontro, alla mezza c'è stato un incontro con i vertici dell'ASP al Polo Sanitario di Tiriolo sui servizi e la nuova sede della postazione emergenza territoriale del 118. Questo era sull'Ametino.it. Per continuare il nostro appuntamento, ecco qui intanto in apertura c'è la notizia dell'arresto in Germania di Filippo Turetta ricercato per l'omicidio dell'ex fidanzata, il caso di Giulia e l'emergenza femminicidi, il governo rafforzerà la protezione delle donne in pericolo. E poi anche qui l'omicidio di un'altra donna, di una dottoressa a Santa Cristina da Spromonte, il barbaro omicidio della dottoressa nel Regino, nessuna pista chiara per l'agguato, la gente vuole risposte e giustizia. La donna apprezzata e benvoluta, si indaga nella vita privata e professionale dei coniugi, il marito non avrebbe ancora fornito elementi inutili alle indagini. In Calabria, in lieve crescita i poveri assistiti dalla Caritas, naufragio di Cutro, ecco la tesi dello studio Buongiorno per evitare a Consap i risarcimenti. E ancora Rocca Bernarda, il pentito indagato per lo squillo mai fatto, retroscena del delito, Castiglione, Gioia Tauro alla nave dei record di MSC, Crotone, abbandono e degrado nel quartiere Lampanaro, a Vibbo comunale del 2024, sintesi lontana per l'alleanza progressista, poi a Reggio Tariffe per i voli, prezzi alle stelle sotto l'albero, Catanzaro al San Giovanni, mostra l'internazionale su Caravaggio, poi Politica, il Rebus alleanze di azione in Calabria, Premio Sila, Ritanna Ameni tra fede e resistenza, poi ancora lo scrittore americano Paul Auster, forse ho scritto il mio ultimo libro, poi alla Mezzia, la base dei Canadair non si tocca, leggiamo appunto dalle pagine del quotidiano del Sud, come dicevamo sull'omicidio della dottoressa a Santa Cristina da Spromonte, appunto la dottoressa Romeo si indaga su vita privata e lavoro, il marito non avrebbe fornito ancora elementi utili alle indagini, ci sono tante reazioni, colpita un'intera comunità e minacciata un'intera categoria, il commento di cismedici e funzione pubblica e lo leggevamo in prima, c'è appunto in Calabria una leve crescita degli assistiti della Caritas, questo è il rapporto povertà della Calabria, oltre il 40% dei residenti è a rischio, rilevante la quota dei nuovi poveri, oltre la metà di chi si è rivolto a un centro nel 2022. Crotone ultime in classifica per qualità della vita, poi il caso del partito azione in Calabria, il rebus delle alleanze, i tecnicismi che fanno discutere, parliamo della strage di Cutro, la tesi dello studio Buongiorno per evitare a Consap di risarcire, il caicco né natante né unitata di porto, obbligo risarcitorio in caso di crociera, poi ancora sul quotidiano del Sud, il PD si congratula con Francesco Denisi al nuovo eletto segretario regionale di azione, l'augurio di buon lavoro, Peta e Giampa si dicono aperti a confonto sui temi caldi. Educazione contro la violenza, la Calabria si attivi, dice il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, poi c'è una battaglia politica da fare per tutte e per tutti, la vice sindaca di Catanzaro, Giusemma parla sull'emergenza femminicidi, poi arte e cultura a Catanzaro, Caravaggio secondo Venanzoni, il complesso San Giovanni ospita una mostra di livello europeo tra tradizione e innovazione potrà essere visitata fino al 14 gennaio del 2024. La giornata mondiale della povertà per non distogliere lo sguardo, iniziative di Città Solidale Ollus, la fondazione raccolto dei buoni che distribuirà alle famiglie e alla Caritas. Su questa giornata della povertà abbiamo letto sul quotidiano del Sud i dati in Calabria per quanto riguarda la povertà e c'è un aumento di persone che si rivolgono alla Caritas in Calabria. Alla mezza terme il bilancio consolidato dunque in Consiglio Comunale, Quei no dei revisori, scrive il quotidiano del Sud, è stata convocata la seduta su una pratica bocciata dall'ex collegio dei revisori dei conti, in particolare sono stati 4 i pareri non favorevoli alle proposte di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, nel senso che gli ex revisori dei conti hanno bocciato 4 pratiche che sono all'ordine del giorno. Poi sulla questione che riguarda l'ipotesi di spostare la base Canadair dall'aeroporto di La Mezza all'aeroporto di Crotone, interviene il segretario cittadino del PD Gennarino Masi, un'operazione sbagliata, il sindaco Mascaro resta in religioso silenzio, interviene ancora anche l'ingegnere Francesco Grandinetti, presidente dell'Assemblea cittadina del PD, il primo cittadino, cioè Mascaro, chieda spiegazione alla Sacale a Occhiuto, tutto questo perché il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, settore emergenza, antincendi, è contrario al trasferimento dei Canadair dalla base dell'aeroporto di La Mezza Terme alla base di Crotone, è contrario perché si sostiene un fatto oggettivo, cioè che la città di La Mezza, l'aeroporto di La Mezza è in posizione strategica, è al centro della Calabria, quindi capace di intervenire in caso di emergenza in tutta la Calabria, ma anche oltre la Calabria, senza perdere molto tempo, essendo in una posizione centrale. Sulla base Canadair, ipotesi di spostamento a Crotone, interviene anche il presidente dell'Associazione La Mezza Libera, Francesco Antonio Mercuri, si blocchi questo scellerato progetto, sempre sul quotidiano, a mai dagli studenti incontrano autori e lettori volontari, l'Istituto Comprensivo ha partecipato alla rassegna Libriamoci, aderendo anche al percorso liberi di conoscere la memoria, questo era sempre sul quotidiano del Sud. Poi c'è questa notizia che riguarda la sanità, sempre sul quotidiano, interviene Saverio Ferrari, dottor Saverio Ferrari, dopo l'incontro che c'è stato al Comune tra i vertici dell'Asp e la Commissione Consiliare Sanità, interviene Saverio Ferrari, il quale dice che sul 118 poi non si è saputo più nulla, si sarebbe dovuto sensibilizzare il Consiglio, il Sindaco e tutte le amministrazioni. Il dottore Ferrari commenta l'incontro fra Commissione Consiliare e Asp. C'è una polemica fra i sindacati della Polizia Locale, ora controreplica la Segreteria Territoriale e la Mezzia del sindacato CSE, FL, PL. Chi rumbolo ignora le norme di riferimento, la decadenza della RSU è stata materia anche di tentativo di raffreddamento e conciliazione presso la Prefettura, risponde il sindacato a questa avvertenza che i lavoratori della Polizia Locale hanno aperto contro il Comune. A proposito dell'incontro all'ospedale fra Asp e Commissione Consiliare, interviene anche Cittadinanza Attiva e Tribunale Diritti per Malato, che non sono soddisfatti di questo incontro fra Asp e Comune, autoassoluzione inconcludente, all'ospedale della Mezzia c'è una situazione per nulla incoraggiante ed ottimistica. Ancora sul Quotidiano del Sud, la visita degli alunni dell'Istituto della Scuola Primaria Manzoni a Ugruso, c'è stata una visita di questi alunni, di questi studenti, al Commissariato della Polizia di Stato della Mezzia Terra. Andiamo a Crotone, Lampanaro, Abbandono e Degrado, Case Popolari in evidente stato di precarietà e ancora niente bonifica del CIC. Questo era sempre sulle pagine del Quotidiano del Sud. Cambiamo territorio, andiamo a Vibbo, l'alleanza progressista si frantuma per la Comunale del 2024. Il fronte si dimostra incapace di trovare un'intesa sul candidato sindaco di servizi alla farmacia territoriale di Vibbo Valencia, questo era sempre sul Quotidiano nella pagina di Vibbo, quindi come sempre sul Quotidiano anche c'è spazio alle pagine di Società e Cultura, Armeni, Trafede e Resistenza. La scrittrice ha presentato il suo romanzo Il Secondo Piano in una serata della Fondazione Premio Osila. Questo poi, Banca Italia, espone una collezione di opere dedicata alle donne. Bene, questo era sempre sul Quotidiano del Sud, ci torneremo tra poco sulle pagine del Quotidiano del Sud quando appunto ci avvieremo alla conclusione come sempre con lo sport, ma intanto andiamo nella parte finale iniziando la parte finale con i principali titoli sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, oggi in edicola andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera la fuga è finita, ha arrestato Filippo, anche qui la Repubblica, il killer aveva un piano, quindi parliamo sempre di Filippo Turetta poi la stampa, ragazze denunciate per salvarvi, dice appunto, c'è questo appello che appunto viene pubblicato oggi dalle pagine della stampa, poi sul Libero, la verità sui femminicidi che smentisce il PD, l'uso politico di Giulia il giornale accusano il governo, non il killer, gli sciacalli del femminicidio il fatto quotidiano, ostaggi, l'accordo è vicino, Bibi dichiara guerra a Biden la verità, la CGL chiede soldi per il Covid, il tempo, Filippo preso in Germania, il messaggero Turetta bloccato in Germania anche qui poi domani, se domani tocca a me voglio essere l'ultima, il sole 24 ore, contenzioso, mediazione in archivio andiamo sul gazzettino, Filippo, fuga finita, così si è tradito su il mattino ragazze denunciate, Filippo Turetta appunto arrestato in Germania, l'appello del papà di Giulia appunto questo ragazze denunciate che abbiamo visto pubblicato anche su un altro quotidiano poi il secolo XIX, da Giulia nasca qualcosa, anche qui il messaggio del padre di Giulia anche qui sull'Ego arrestato il killer di Giulia e sul resto del Carlino che sia l'ultima poi sul quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia il ricatto tedesco della gabbia dei decimali entro Natale l'Italia si gioca tutto per attuare il PNRR e ribartare il nuovo patto europeo questo era appunto sul dorso nazionale, sulla parte nazionale del quotidiano del sud l'altra voce dell'Italia a proposito di parte nazionale andiamo intanto a concludere il nostro appuntamento con i quotidiani sportivi nazionali prima con i quotidiani sportivi nazionali e poi concluderemo con lo sport regionale con le pagine sportive del quotidiano del sud c'è ampio riferimento alla finale degli ATP Finals all'Alpitour di Torino dove Djokovic si è preso la rivincita su Sinner battendolo 6-3-6-3 in finale dopo che appunto qualche giorno fa alle qualificazioni Sinner aveva battuto il numero uno a mondo Djokovic ma Djokovic si è subito preso la rivincita Djokovic è il re, Sinner il futuro scrive Gazzetta del Sud poi caro Jannik Sarai il numero uno lo dice lo stesso Djokovic sul Corriere dello Sport leggiamo in alto Extra Lukaku segna quattro gol in 37 minuti in signe si fa avanti per la Lazio scrive il Corriere dello Sport poi in basso è solo rinviato le Finals a Djokovic Sinner battuto 6-3-6-3 poi su tutto sport grazie Jannik mostro Nole appunto riferimento a Nole Djokovic solo un leggendario Djokovic ferma il sogno di Sinner e poi sul quotidiano sportivo c'è ancora domani scrive il quotidiano il quotidiano il quotidiano sportivo a proposito di Jannik Sinner sulle pagine dello Sport del quotidiano del Sud allora è iniziato il conto alla rovescia per Catanzaro Cosenza domenica prossima 26 novembre allo stadio Ceravolo di Catanzaro il derby calabrese Catanzaro Cosenza e Candauno scrive il quotidiano del Sud cresce l'attesa Vivarini e Caserta i due tecnici hanno alcuni nodi da sciogliere la super sfida si avvicina le squadre stanno ricaricando le pile appunto e poi c'è una diciamo una una ricostruzione sui precedenti tra Catanzaro e Cosenza dal 1988-89 ad oggi al Ceravolo ha prevalso il giallo-rosso cioè il Catanzaro in serie C per il Crotone è un'occasione persa con la Casertana in 10 è mancato l'affondo vincente per avvicinarsi alla vetta quindi Casertana a Crotone finisce 1 a 1 leggiamo la quotidianità del Sud scendiamo di categoria la Fenice Amaranto Reggio Calabria solo un pari ad Agrigento Agras appunto la Fenice Amaranto Reggio Calabria 1 a 1 San Luca a Trapani sconfitta di misura Amaranto a testa alta in Sicilia poi Gioiese non basta il cuore Viola in vantaggio cioè la Gioiese fino a 5 minuti dal termine poi la beffa finale Orazio Illude Giannone Rotulo regalano tre punti a Licata poi è un pari amaro per la Vibonese in casa con la Cireale Rosso Blu padrone del campo ma poco incisivi negli ultimi 30 metri quindi Romano sul rigore porta in vantaggio la Cireale il pari è di convitto è espulso Boucher la vetta per la Vibonese si allontana domenica prossima c'è il turno di riposo appunto che doveva osservare la Vibonese in eccellenza la Vigor la mezza torna a sorridere batte 1 a 0 al dippolito il Cittanova un gol di Catania nella seconda frazione regala il successo ai Biancoverdi il Cittanova cade al dippolito e scivola in classifica in settima posizione pareggio nel big match tra Soriano e San Biase 0 a 0 prima e seconda in classifica sono trovate di fronte il big match termina in parità una bella giornata di sport con i locali appunto il Soriano di nuovo sul proprio campo dopo tre anni con l'erba sintetica Soriano e San Biase offrono una prestazione di sostanza ma serve segnare quindi la classifica attuale dice San Biase 24 Soriano 22 Vigo Lamezia staccata da 5 punti alla vetta con 19 punti ma comunque a un punto della Vigo Lamezia ci sono Reggio Ravagnese e Rende a 18 poi a 17 a 3 punti a 2 punti sempre della Vigo Lamezia il Praia Torta quindi è una classifica molto corta lo stesso Città 9 a 16 punti con 2 punti di penalizzazione ma ha fatto ricorso appunto su questa penalizzazione questo era appunto sulle pagine del quotidiano del sud poi andiamo in promozione Girone B il Maida sfiora il colpo Virtus Rosarno 1 Atletico Maida 1 questa è la promozione Vole A2 femminile Soverato Vittoria sfiorata Formula 1 Ferrari gioia a metà a Las Vegas Verstappen e Guaglia Vettel Leclerc che sorpasso è secondo in classifica moto mondiale Di Gian Antonio vince in Qatar secondo posto per Bagnaia con lo sport abbiamo concluso il nuovo appuntamento con il giornale in tv con il calcio in particolare vi rimandiamo all'appuntamento sempre su STV e l'appuntamento settimanale a tutto calcio per il momento è tutto con il giornale in tv grazie da Pasqualino Rettura per averci seguito fin qui e con il giornale in tv naturalmente ci rivedremo per la prossima edizione grazie a tutti Autore dei sorrisi